Torna dopo il successo della prima edizione il Festival Estivo della Musica Corale organizzato dall'Associazione Musicale Corale 99. L'appuntamento è per domenica 23 giugno alle ore 18 nella suggestiva cornice della Chiesa del Crocefisso dentro al Parco del Castello dell'Aquila. Quest'anno torniamo con il secondo anno. L'anno scorso c'erano stati i quattro cori storici della città dell'Aquila. Quest'anno invece ospiteremo due cori, uno di Scurcola Marsicana diretto da Monica Tortora e il coro di Pescassero diretto da Anna Neri con un programma leggero visto appunto la location che è all'aperto anche con dei rumori esterni abbastanza forti. Noi faremo una breve introduzione con solo tre brani, eseguiremo 99, Matona mia cara di Orlando di Lasso e Vola Vola, il celebre Vola Vola Vola. Organizzata nell'ambito della Festa della Musica promossa dal Ministero della Cultura in collaborazione con l'Associazione per la Festa della Musica, la manifestazione si avvale del patrocinio di Arca Cori Abruzzo e Feniarco che aderiscono all'iniziativa oltre al patrocinio del Comune dell'Aquila e della Regione Abruzzo. L'importanza principale è data dal fatto che appunto sono importanti per l'aggregazione, per portare tante persone ad ascoltare, spero, buona musica e soprattutto per quanto riguarda la corale appunto richiamare più persone possibile a cantare, a stare insieme e a fare, spero, belle cose. Giunta quest'anno alla trentesima edizione, la Festa della Musica come tema, la prima orchestra siamo noi, per sostenere il ruolo culturale e sociale della musica attraverso concerti, performance ed eventi. La manifestazione ad ingresso libero punta a bissare i successi dello scorso anno e della rassegna che la Corale 99 organizza da tempo in autunno. Noi abbiamo deciso anche per valorizzare questa sede che è nostra dal 2008 e volevo cogliere l'occasione per ringraziare le amministrazioni comunali che si sono succedute, che ci danno l'onore di poter usufruire di questa sede e a nostra volta di metterla a disposizione della cittadinanza dell'Aquila ed offrire appunto questi appuntamenti in questo contesto che è veramente imitante.